Buongiorno, veloce video di presentazione dell'ultima bicicletta della gamma Giant 2020 arrivata qui in negozio si parla della nuova Giant DeFi in versione Pro caratteristica principale che notiamo subito è il cablaggio completo integrato grazie a una nuova serie sterzo e un attacco manubrio, molto pulita quindi la linea l'abbinamento poi nella versione Pro è anche con ruote in carbonio di serie e gomme Fondo 1 Giant da 32 altra caratteristica dell'assemblaggio della Pro 1 è il nuovo SRAM Force elettronico wireless che con un video dedicato vi abbiamo mostrato come funziona la particolarità in più rispetto a quello che si è visto finora è la modalità di cambiata abbiamo quindi dual control che lavorano entrambi con un singolo pulsante sia a destra che a sinistra su entrambi i teraliatori vi spiego meglio nel senso che adesso se andiamo ad azionare la pedalata e vogliamo alleggerire il cambio posteriore andremo a schiacciare singolarmente il control sinistro mentre se vogliamo invece andare sempre per il posteriore ad indurire la pedalata dovremo azionare il destro quindi lavorano entrambi sul posteriore se invece vogliamo azionare il deragliatore anteriore dobbiamo comprimerli contemporaneamente tutte e due per cui andranno ad azionare il deragliatore una volta in discesa e se andiamo a ricomprimerli una volta sarà per la salita in questo modo con un singolo pulsante per lato andiamo ad azionare entrambi i cambi la DeFi in questo assemblaggio ha un peso di 7,8 kg in taglia 56 ml per una bici all round dalle grandissime capacità passate il negozio per dargli un'occhiata grazie, ciao ciao ciao